Biancazzurra in ansia per l'infortunio al ginocchio di Filippo Melegoni. Il centrocampista di proprietà dell'Atalanta si è fatto male nel corso del test contro la nazionale Under 20 Svizzera. Distorsione al ginocchio. Gli ulteriori accertamenti che saranno effettuati dallo staff sanitario dell'Atalanta chiariranno l'entità del danno e i tempi di recupero. Oggi intanto ripresa degli allenamenti in casa Biancazzurra. La buona notizia è che Ugo Campagnaro ha lavorato con il gruppo a Lecce, salvo imprevisti, sarà tra gli 11 titolari. La novità è rappresentata dalla posizione di Gaston Bruggemann, provato dietro le due punte. Novità anche dal mercato. In prova da oggi Donis Avdijay, l'esterno offensivo classe 96 tedesco, ha iniziato la stagione nella seconda divisione olandese del Wilhelm. Lo scorso anno con lo Schalke 04 in Bundesliga verrà valutato. Ancora indisponibile Frank Canutè per il centrocampista Biancazzurro occorreranno altri 10 giorni di lavoro differenziato.